Ciao Food Springers, in onore di oggi della Energy Aminos in due nuovi gusti, maracuilla e iced tea che vuol dire il tè freddo, abbiamo Energy Aminos che ci dà l'energia giusta per fare il nostro allenamento, ricordate che l'allenamento deve essere intenso per darci un risultato, non possiamo farlo tipo tutto mojo mojo e pensare che questo ci darà i risultati desiderati, così con voi in onore di Food Spring Energy Aminos io vado a fare una Tabata con voi, pronti? Andate a prendere subito un asciugamano e mettiamoci al lavoro. Allora ragazzi per fare il nostro Tabata dobbiamo fare tre esercizi per otto volte, otto facendo 20 secondi e 10 secondi di recupero, tre diversi gruppi, ok? Dedicheremo il nostro allenamento ai glutei, alle gambe e abdominali oggi, ok? E cominciamo a fare semplicemente un piccolo jog per riscaldarci. Mio consiglio sempre prima di fare una vera e propria Tabata di fare un riscaldamento più lungo, magari facendo un po' di trampolino, un po' di fluid, o magari dopo avete fatto un po' di corso, un po' di ciclette, poi andremo a fare la parte diciamo proattiva e tonificante del nostro allenamento. Ci siamo, 18 secondi, il primo movimento è cammino, cammino, cammino e salto indietro lavorando sui glutei facendo una sorta di lavoro tutto in pliei costantemente per allenare molto bene la nostra gamba. Ok, 4 secondi, ci siamo, 3, 2, 1, ok? 20 secondi e vado indietro. Cammino sempre in basso e torno indietro, lavoro sui talloni e torno indietro, continuo a lavorare per 20 secondi, ancora 7 secondi e lo faremo 8 volte. Io adoro Tabata perché ci dà tanti risultati, ok? E in un allenamento diciamo molto ristretto così, quando avremo finito la quarantena, quando ritorneremo alla nostra vita normale, comunque potete sempre allenarvi, ok? Anche in solo 15 minuti. In, dietro ancora, cammino, 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 salto indietro, ancora cammino, 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 salto indietro. Vai! Ancora 5 secondi, vai, vado, torno indietro, ok? Ricupero 10 secondi, la seconda volta di 8, ci mancano 6, continuo a muoverti se è necessario, prendi la tua energia a minus prima dell'allenamento, ok? Almeno 30 minuti prima dell'allenamento per avere più energia durante il vostro allenamento. Vai, vai, grandi sorrisi, continui, vai, vai. Ancora, 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 salto, salto, vado, salto, 10 secondi. Ci siamo? E poi ditemi quale ti preferisci, maracuja o ice team? Mi viene in italiano, mi viene in italiano. T'è freddo, t'è ghiacciato, ok? Ancora, vai, vai. Indietro, 7 secondi. Lavoro sui taloni, 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 ancora, ok? Ci siamo ragazzi, io adoro Tabata, continuate a respirare, tenete anche l'acqua vicino. 2, 1, cammino, salto indietro, cammino, salto, vai, con l'altra gamba, sinistra, salto indietro, sinistra, e 2, 1, vai. Ok, scendo, scendo, vado. Lo senti proprio sotto il gluteo, è bello, no? Ok, 10 secondi. Ci mancano? Ok, ancora 3 volte questa. Comincio a farla sentire, è vero? Andiamo, 1, 2, 3, salto, salto, 1, 2, 3, ancora, ancora, 1, 2, 3, salto, 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 1, 2, 3, salto, ancora 7 secondi. Oh yeah! Si sente tutto, vado. Ok, 10 secondi. Questa è la mia, diciamo, un regalo a voi, un allenamento grazie a FoodSpring, grazie a Energy Aminos. E andiamo, teniamo anche Energy Aminos come un piccolo allenamento perché pesano. Ancora, spingo, spingo, ancora, vai, spingo, spingo. Quanto mi piace allenarmi, dai, ti fa sentire vivo. Ancora, 4 secondi. Vai, 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 vai. Vai, eccellente ragazzi, 10 secondi di recupero. Maracuia, Ice Tea, se è freddo, Energy Aminos, proprio quello che ci serve per allenarci intensamente. E avere la benzina, la benzina che ci permette di avere tanta intensità. Vai, 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 tanta intensità. Ancora, 9 secondi. Spingi sui taloni, ricordate le ginocchia, puntano sempre il dito medio del piede. Vai, relax, ok. Eccellente. Molto breve, molto intenso, ma molto efficace. Ancora 4, 3, 2, 1. Ok, 15 secondi di recupero. Prossimo esercizio, Cross Back Squat. Destro in avanti, sinistra indietro. Mi inchino come stessi per dare inchino alla corte. Invece rimango sempre sulla stessa gamba, premendo verso basso. 20 secondi, 4 per lato, ok. Stacca di poco a poco, busto in avanti. Sto lavorando sui taloni antirigori, quello davanti. Respira ancora 9 secondi. Metto le mani sotto il gluteo, senti come diventa tesa. Che si sta rasodando. Spingo verso basso. Non pensare di... Ok, 10 secondi. Ricupera sempre nel stesso lato. Stesso lato, 4 per lato. Ancora 3 secondi. Rincrocio indietro. Busto in avanti. Non mi lavorare dritta, ok. Busto in avanti. Scendo e spingo con il talone a terra. Che mi fa sollevare poco a poco la gamba indietro. Busto in avanti. Abdominali tesi per proteggere la schiena. Ancora 6 secondi. E più spingo giù, più mi sollevo tutto il busto. Ma non sto lavorando di schiena. Sto lavorando di talone, di gluteo e di bicipite e di temorale. Ok, ci siamo? Ancora 2 volte questo lato. Ok, 20 secondi. Io adoro Tabata. Un allenamento intenso. Un allenamento compatto. Quando ho poco tempo lo faccio, volo in piedi perché mi permette di portare tanto lavoro a casa. E il giorno dopo sentirai il lavoro dell'acido lattico. 2, 1, stop. Ci manca ancora uno. Tu sentirai che hai lavorato. E tutto questo è solo 13 minuti. Ed è più, è alta intensità per aiutarci a aumentare il sistema brucia grassi. Giù, sempre spingendo giù. Lavoro, questo è l'ultimo lato. L'ultima volta è questo lato. Poi cambieremo gambe e saremo a metà del nostro allenamento. 8 secondi. Dai, dai, dai. Spingi verso basso. Spingo verso basso. Spingo, spingo. Dai, ci mancano pochi minuti. 10 secondi. 4 volte dall'altra parte. Ci siamo? Incrocio. Ricordate nel lavoro di schiena, lavoro di gamba, lavoro di talone. Giù. Premo verso giù. Giù, giù, giù. Continui, continui, continui. 13 secondi e spingendo giù mi fa sollevare tutto. Ok? Non è che sto provando di andare verso alto. No, sto provando di allontanare da me il pavimento. Stop. Respira. Yeah. Ok. Ancora, ancora. Prepara. 3 volte, 3 volte, 3 volte. Ci siamo? Vai. 10, 20 secondi. Mettete le mani sotto il gluteo, così senti proprio dove stai lavorando. Bus in avanti, molto compatto. Non è necessario di fare le cose troppo ballistici, troppo grandi per avere risultati. Anzi, a casa, da solo ve lo sconsiglio se non siete con un trainer. Perché magari, essendo la prima army, non sei pronto, non ti sei riscaldata abbastanza, potresti fare male. Ma se io faccio lavori concentrati, proprio veramente come a mia energia amminosa, concentrato di energia, Ok, ho la possibilità di lavorare in totale sicurezza a casa. Che non fare strattoni, saptoni, le cose che potrebbe strappare. No, noi stiamo allontanando, spingendo verso basso, contraendo il gluteo. Uno. Ci manca ancora uno. Ancora un lato, poi abbiamo piccolo ricupero. Poi scenderemo per finire in bellezza con gli addominali. Ci siamo? Vai. 20 secondi. Spingo e sollevo. Spingo, vai ancora più piccolo. Senti il lavoro che stai facendo su questo talone che spingi verso basso. Lo senti? Corra. 7 secondi. Eccellente. 4 e 3 e 2 e 1. Oh, perfetto ragazzi. Come ti cominci a sentire questi glutei e queste gambe che stanno lavorando? Respira. Allora, 15 secondi andiamo a cambiare per fare l'ultimo scatto che sarà per i nostri addominali. Ci mettiamo con la braccia tesa in plancia. Ok? 20 secondi alla volta. Portiamo. Uno, due, tre. Pronti? Su. Scendo. Torno indietro. Abdominali sono molto tesi. Fianchi alti. Ok? Porta il petto. Scendo e torno. Ok? Provate a trattenere l'ombelico attaccandolo sulla colonna vertebrale. Ok? Ancora 4 secondi. Questo è l'ultima. 8 esercizi. Ok. Ricupero relax. Ricupero relax. Ci mancano 7 volte. Posizioni di nuovo. Torno su. Abdominali tesi. Comincio con la gamba sinistra. Scendo e torno. Scendo e torno. Scendo e torno. Passando da una gamba all'altra. Sollevo. Scendo e torno indietro. Sollevo. Scendo e torno indietro. Ancora 7 secondi. E poi c'è il ricupero di 10 secondi. Ci siete ragazzi? 2, 1. Ok. Meno 6 volte. Siete pronti? Hai visto quanto è bello Tabata? Io adoro Tabata. È veramente efficace. Efficace. Ok, vai. Giù e su. Vai, vai, vai. Su. Vai, vai, vai. Ricordate che questo allenamento oggi è sponsored by Food Springer. Ok? Me l'hanno chiesto di fare un allenamento dedicato a tutti i Food Springers. Tutte le persone che vogliono mangiare bene. Allenarsi. Allenarsi bene. Vedi tanta energia. Me la metto accanto a me. Ecco. Energy Aminos, Maracuja e Té. E diciamo, Té freddo. Ok? Scendo giù. Energy Aminos ci permettono di avere più energia durante il nostro allenamento. Perché ricordate che l'intensità è quella che ti dà risultati. Se lo fai senza intensità, se lo fai quando siete stanchi, non avrete gli stessi benefici del tuo allenamento. Così provate sempre di allenarti quando hai energia. Se non hai energia, date una mano. E Food Springer è proprio per questo. E anche post allenamento durante la finestra anabolica che dura da 60-90 minuti. Utilizzate Food Springer per ri-integrare zuccheri, proteine, grassi post allenamento. Perché è il momento che il tuo corpo brucia di più. Ok? Ci mancano ancora tre volte. E così io posso avere il massimo della mia alimentazione, del mio allenamento. Con poco tempo. Perché questo è un allenamento di poco tempo. Pronti? Ci mancano tre volte. Abdominali. Porti con il ginocchio giù. Allontano il pavimento da me. L'ombelico rimane sempre attaccato alla mia colonna vertebrale. Wow! Quanto mi piace. Alle elementi duri. Continuiamo. And. Uh! Meno due. Meno due. Abbiamo finito il nostro allenamento grazie a Food Springer e una bella tabata. Ci siamo? Vai sinistra parte. La meta è quasi raggiunta ragazzi. Stiamo facendo un allenamento pazzesco. Lo sentite? Ok. Dieci secondi. E poi abbiamo solo lo scatto finale. Vai, vai, vai. E sai che ti dico? Facciamo un bello scatto finale diversa. Facciamo. Uh! No, la salvo per la prossima volta. Ok? Ci siamo? Ultima. Scatto insieme. 20 secondi e siete liberi. Vai! E torno indietro. Oh! Torno indietro. Dai, dai, dai. Continuate il vostro allenamento con Jill, con Tabata e con Food Springer. Ancora sette secondi. Uhuh! Abbiamo finito. Tre. E due. E uno. E stop! Ricordate sempre, oltre all'allenamento, che potete utilizzare il mio sconto Food Springer sul loro sito durante il check out Jill YLT per ricevere il 15% di sconto con Food Springer. Andate a provarli sul loro sito Food Springer.it e vi aspetto insieme al prossimo allenamento. Baci dalla Jill!